Cari amiche, cari amizi, dopo aver preso il consueto teino delle cinque, ma perché non andare tutti quanti nella bella Pontascebe? Sì, nei giorni 13 e 14 di settembre c'è Foodstock, la kermessa enogastronomica, con chef, zibo di strada e tanta tanta buona musica. E il 14 ci sono anche i sindaci e i fornelli, ma quante ne fanno? Per l'occasione si potranno visitare le nuove cantine della Ruffino. E tra un bocone e un sciorcio di buon vino c'è anche uno spazio dove abbandonare i più piccini, con animazioni e artisti di strada. Vi aspettiamo numerosi, per il programma completo consulta il sito www.foodstock.sieve.it www.foodstock.sieve.it